Afidi. Rimedi organici per afidi nei nostri stabilimenti. Afidi hanno nemici naturali, coccinelle lacevink e se piccole vespe come questi parassiti, ma nessuno di questi controllano completamente il parassita. Una coccinella è come stato membro larva degli insetti da mangiare per 20 giorni tra 350 e 400 afidi. Oma rimedi. Questi rimedi sono per le piante in vaso, se si dispone di alberi o di un ampio giardino con afidi, usarli bene, tenendo conto delle proporzioni dei prodotti. Una soluzione molto efficace contro gli afidi è di spruzzare le piante con acqua e sapone colpite, per lo getto la quantità di un cucchiaio di detersivo per i piatti di mezzo litro di acqua in una bottiglia spray e agitare pronto per l'uso. È possibile utilizzare spray che vengono in alcuni prodotti per la pulizia e pulire una volta finito. Potete anche provare un mix semplice, se si ha accesso a mozzicone di tabacco da fiuto, afferrare una dozzina e ottenere in acqua e lasciare macerare per due giorni, le scuole attraverso un panno e gettatelo a porta sapone nelle proporzioni del rimedio precedente e lo spruzzatore. La nicotina agisce come un veleno per afidi e altri insetti. Un altro rimedio, si tratta di un infuso a base di ortiche. Mettete in un secchio 100 grammi di ortiche fresche e un litro di acqua, coprire il contenitore di plastica o una tavola che si adatta bene e mescolate spesso. Quando il composto è decomposto, sforzo. Lasciate riposare tra 12-24 ore e spruzzato di insetti con lo spray. Le trappole sono molto efficaci cromatico, entra nel mio canale e vedrete come lo facciamo. Se ti è piaciuto questi rimedi mi aiutano se si dà giù patri volta verso l'alto. Mi piace. Grazie per la visita ai miei video. A be a nice day.